Sono andato via da Marettimo a 25 anni, facevo il pescatore qua e sono andato a fare il pescatore anche in America. Avevo la possibilità di andarsi molto prima perché mio padre già era residente in America, aveva 15 anni prima di me che era andato in America, ma mio papà veniva ogni due anni, mia mamma non voleva andare in America perché aveva la mamma, insomma io non ci sono andato fino a 25 anni, poi è venuto mio papà, dice vieni a fare un'estate lì a Salmone, vieni a provare, vieni qua, sono andato, da quel giorno sono rimasto lì, poi faccio sempre avanti e indietro, ogni estate, prima di agosto mi presento qua a Maretti. Il legame è una cosa troppo forte che non mi posso staccare, ogni anno quando ho tre settimane cerco di scappare sempre a Marettimo, ho la casa, tutti gli amici, amici fratelli, sono tutti qua perché quelli lì sono sempre amici acquisiti di quando c'hai 30 anni, ma questi di qua sono quelli che abbiamo giocato in mezzo alla strada quando avevamo 5 anni, per cui gli amici propri fratelli sono questi di qua, non c'è nessuna competizione fra quelli italiani e gli amici americani, tutta un'altra cosa. L'inverno era più popolata perché allora c'era la pesca, non so, 1200-1300 persone che ci abitavano, c'era la pesca delle sarde, la pesca delle ope, il cicirello, ora invece piano piano, piano piano la pesca è andata a finire e si va sviluppando il turismo. Quando si vedeva una persona estraria tutti chiedevano ma chi? Ma chi? Da dove viene? Che vuole? È sempre così. In California ci abitiamo tutto l'anno e in California facciamo la pesca dei calamari, pesca delle acciughe, pesca delle sardine, ma il salmone è solo in Alaska. Io da 42 anni, senza perdere una stagione, ogni anno sono sempre in Alaska, ogni anno sono sempre in Alaska. Quando io abitavo a Marettimo, San Giuseppe era una festa propria nostrale, tutti i Marettimari da tutte le parti delle zone della Sicilia, anche dal Nord Italia venivano a festeggiare, a celebrare questa festa. Anche ora un poco vengono, quelli che hanno la possibilità per fare il lavoro, per cose, ma solo che c'è un paio di giorni, ognuno cerca per questo giorno di essere qui, come ho fatto pure io quest'anno, perché io per venire qua è un viaggio lontanissimo, 30 ore ci vogliono, di volo, non 30 ore di treno, 30 ore di volo, per cui è un grande sacrificio, non è una cosa che uno può fare sempre, non finanziariamente, ma anche come viaggio, se arriva sfiniti quando si arriva qua. Ma per noi, stando più forti che abbiamo, l'abbiamo dentro il sangue questo San Giuseppe, infatti io quest'anno ne ho celebrati due, ho celebrato il giorno 10 di marzo a Monterrey, alla festa di San Giuseppe di Monterrey e dopo due giorni sono partito e sono venuto qua a Maretti per fare l'originale e per questo mi trovo qua. Se ci piace la tranquillità, ci piace il mangiare buono, ci piace stare in dolce compagnia con amici e gente dal posto, sono molto accoglienti, per cui se devono passare 3-4 giorni, sono 3-4 giorni felici, come sto passando adesso io.